Sì? I suoi hamburger, signore. Avanti. Bene, bene. Ma come? Tutta quella roba per un paio di hamburger? I nostri hamburger sono speciali, signore. Ah, va bene, vediamoli. Qui abbiamo la cipolla. Qui abbiamo la lattuga. Qui abbiamo la senape. E io, signore, io sono il pane. E la ciccia dovrei mettercela io. Esattamente, signore. E io, signore. Ma come? No, signore. E io? Senti, l'acqua è calda, ma come? Ti avevo chiesto mezza cipolla e ti presento addirittura con un sacco. Sei licenziato, via. Chi è che comanda qui? Sei Moame, sì. Sono io l'artista. L'artista? Avvenenatore. Allora sei tu che volevi fare hamburger delle mie chiappe, eh? Le sue chiappe mi sono. Aspettate, lo aspetto io. Andiamo, ragazzi, via. Mettiamoci una pietra sopra. Perché no? Pronto, pronto, servizio di sicurezza. Chiamate la polizia immediatamente. Come sarebbe state tutti a pranzo? Oh, fa vedere. Ehi, ok, questo lo so, vai avanti. Ehi, oh, oh, sta attento. Guarda che ti strozzi. Allora, questo pranzo è finito o no? Come dovete prendere ancora gli caffè? Qui si ammazzano. Ehi, via la polizia! Guarda chi si rivede.